L'obiettivo è quello di combattere lo sfruttamento dei lavoratori delle cooperative, la città di Nichelino è stato il primo comune d'Italia a firmare un protocollo che garantisce al lavoratore delle cooperative le stesse tutele degli altri lavoratori, secondo noi era sbagliato avere lavoratori di serie A, lavoratori di serie B, per questa ragione anche i lavoratori delle cooperative e anche in caso di cambio di appalto possono essere tutelati, in questo modo scende la precarietà e riusciamo a dare a tutti pari condizioni, ma soprattutto la dignità che il lavoro conferisce alle popolazioni. Grazie a tutti!